Noi dobbiamo guardarci, fare un'analisi seria, dura, anche impietosa e in qualche modo capire che cosa offrire al di là di quello che è il binomio sole-mare. Perché non possiamo più dipendere, e lo dico anche se è stata una stagione da un punto di vista meteorologico difficile, non possiamo più dipendere soprattutto dal meteo. E' chiaro che tutti noi sappiamo che cosa ci vuole, sappiamo che dobbiamo aggregare il prodotto turistico, sappiamo che dobbiamo in qualche modo offrire un qualcosa di più che abbiamo, che siamo nella consapevolezza di avere, ma non riusciamo ancora a metterlo insieme, cioè ad aggregare il prodotto turistico in modo da poi promuoverlo e commercializzarlo. Ecco io penso che questa sia la sfida del 2014-15 con una vetrina che è quella dell'Expo.